Grazie Oh my god Scendi Becca tu con il monitor Inganisci lì una 400 No Problema No Cosa è successo? No C'è un bug Easter egg Non mettere il letto su Ciao No Non metta poco Vedete La f***a di Filippo P Con la barra che copre Non si legge Io lo leggo Porco però Chiudiamo il programma Stop Grazie 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 Grazie